Natale a Lecce riparte la fiera di Santa Lucia, per i leccesi la fiera degli pubi. Il popolo dei presepi torna negli storici spazi dell'ex convento dei Tatini, nel cuore della città, per accendere l'atmosfera natalizia. Grotte, comete, sacre famiglie, angeli, zampognari, pastori e artigiani di ogni tipo traboccano da benchetti. La fiera di Santa Lucia si può visitare gratuitamente nell'ex convento dei Tatini a Lecce dall'8 al 26 dicembre.